ariete per tutta la giornata dovrete occuparvi a questioni legate alla quantità e alla qualità dovrete sapere in ogni momento a quale dare precedenza toro qualcuno potrebbe rivelare per errore ciò che vi sforzate di tenere nascosto all'inizio ne sarete contrariati ma presto proverete un senso di sollievo gemelli gli altri hanno molti buoni motivi per abbandonare il gioco ma a voi converrà portarlo avanti fino all'ultimo avete tutto da vincere e niente da perdere cancro il lavoro da fare è più impegnativo di quanto sembri oggi ed è probabile che sarete costretti a chiedere aiuto a qualcuno leone non sarà facile oggi riuscire a capire cosa gli altri si aspettano da voi limiterete il margine d'errore se rispetterete le istruzioni alla lettera vergine rassegnatevi al fatto che non tutto dipende da voi oggi e che il successo arriverà solo se tutti faranno la loro parte bilancia gli altri vorranno sapere da voi cosa è possibile e cosa non lo è il modo in cui affronterete una situazione difficile sarà rivelatore scorpione le cose potrebbero rivelarsi più facili di come avevate immaginato oggi ma questo non significa che dobbiate rilassarvi al contrario raddoppiate la posta sagittario più le cose sembreranno incomprensibili più ne sarete attratti attenzione a non farvi coinvolgere in qualcosa di insensato capricorno avrete un'opportunità per accorciare le distanze tra voi e una persona che consideravate irraggiungibile non emozionatevi e giocate bene le vostre carte acquario gli altri potrebbero spiarvi oggi per vedere come gestirete una situazione che si è dimostrata troppo complicata per loro pesci mantenete sempre aperti i canali della comunicazione oggi se sarete voi a prendere le decisioni ascoltate attettamente i suggerimenti di chi deve obbedirle